E' stata una notte di paura a Taurisano, in provincia di Lecce. Alle ore 2.30 circa, un'auto intestata ad una 46enne del posto incensurata ha preso fuoco in via Settembrini. La vettura, una Renault Cajar, è stata completamente distrutta dalle lingue di fuoco che sono arrivate ad un'altezza tale, da annerire e danneggiare inoltre la parete esterna dell'abitazione vicina. Sul posto, allertati dai residenti della zona, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento. Insieme ai caschi rossi, la zona è stata raggiunta anche dagli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal vicequestore Salvatore Federico. Si sospetta matrice dolosa a confermarlo non solo i rilievi dei vigili del fuoco, ma anche le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza della zona, già in possesso alla polizia di Stato, che sembrerebbero aver immortalato l'autore del gesto.